Ciao a tutti ragazzi, io sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Come detto e già anticipato, ogni tanto voglio anche riportare videogiochi sul canale, ovviamente non gameplay, i gameplay non ne porterò più, a parte casi rarissimi, però per mostrare un po' meglio il gioco come accompagnamento alla recensione, volevo fare un cosa ne penso dell'ultimo gioco uscito di Predator, che si chiama Predator Hunting Grounds, è il gioco che vedete che ho registrato, la partita che vedete di sfondo, e è il gioco degli stessi sviluppatori di venerdì 13, quindi la Ilphonic. Ora, questo gioco devo dire la verità e premetto subito che se porto un gioco sul canale è perché il gioco mi ha colpito, ovviamente non porterai mai un gioco per espreciare le cose del genere, non avrebbe senso, non trattando più videogiochi come un tempo, non avrebbe senso fare delle rubriche di giochi che non mi interessano, quindi se lo porto già vuol dire che tutto sommato la valutazione finale è positiva. Allora, il gioco è fatto dalla Ilphonic, che sono gli stessi di venerdì 13, quindi il biglietto da visita c'è, e non potrebbe essere mai più negativo, almeno per me, perché, lo sapevate, io attendevo come unico gioco della mia vita o un gioco di Michael Myers di Halloween o uno di Jason di venerdì 13. L'hanno fatto, non solo gli è venuto male, ma lo hanno anche abbandonato, quindi io sull'Ilphonic scommetto zero. E questo gioco di Predator, Hunting Grounds, riprende le stesse meccaniche del loro venerdì 13, quindi riprende le solite meccaniche dove 4 sono, vabbè, lì erano di più nel caso comunque, il classico gioco asimmetrico, 4 fanno una squadra di marino, di soldati, l'avete visto come nel primo film con Schwarzenegger, e uno fa il Predator. Quei 4 devono fare la loro missione, che non è uccidere il Predator, però è una missione di stampo PVE, quindi devono ammazzare NPC e devono andare a fare obiettivi in una mappa che è una demo, quindi c'era soltanto una mappa, però gli obiettivi cambiano e sono dinamici, quindi magari la mappa, per quanto è sempre la stessa, le missioni tra una partita e l'altra ti fanno visitare nuove parti, e quindi è una cosa assolutamente incomiabile, secondo me, è una cosa molto interessante. La missione non è sempre la stessa, come vedi, 13 fili alla macchina, chiama Tommy Jarvis, ma comunque è molto più varia, e questo è sicuramente un punto a favore del gioco. Poi, ovviamente, il gioco non è esente da difetti, perché il gameplay funziona bene, stranamente anche qui ci sono riusciti, dopo un gioco legnoso da morire, come venerdì 13, sono riusciti a fare, secondo me, un gioco abbastanza fluido, nei movimenti sia del Predator che dei soldati. I soldati vedono in prima persona, il Predator invece vede in terza persona, come vi farò vedere nel corso del video. Enter è fatto benissimo, i suoni sono fatti bene, e soprattutto i suoni ripresi dal film, tipo quando il Predator usa la visione termica, è spettacolare perché sente le voci tipo vattate, come vi ricordate nel film, e sente suoni molto amplificati, o addirittura i Marine soldati possono prendere il fango da terra, sporcarsi nel fango, come fa Schwarzenegger nel film, e a questo punto coprirsi dalla visione termica del Predator, non al 100%, ma diciamo comunque in parte. Il giocatore che interpreta il Predator è ovviamente molto più forte rispetto a Marine, vede in terza persona, può attaccare in corpo a corpo, salta di arbero in un arbero, e tanto lo vedrete, perché vi farò vedere anche il tutorial nel corso di questo video. Ora però, dalle cose belle secondo me che sono riuscite meglio, arrivano le note dolenti. Allora, prima cosa negativa e poi la seconda. La prima, quando sono venuto a conoscenza di questo gioco, un anno fa che lo presentarono nelle 3, mi sono detto, la prima domanda, che io non penso ad essere l'unico che se l'è fatta, poi fatemelo presente nei commenti. Mi son detto, ma perché? Cioè, perché fare un gioco del genere su Predator? Ma non c'è già Alien Contro Predator, che anzi, era meglio di questo? Come grafica? No, è fatto bene questo di grafica, non è fatto male. Però, perché? C'era già Alien Contro Predator, perché fare un gioco del genere? Ok, non ci metti le xenomorfi, fai una cosa dedicata al primo film di Predator, però, perché? Cioè, nel senso, mi viene questa domanda spontanissima, di dire, potevo anche spendere, ok? Che questo gioco costerà 35 euro, costerà poco, quello che volete, tutto quanto, non costa 60 euro. Però, c'è già Alien Contro Predator, che senso, c'avevo a fare un altro gioco del genere, che invece di metterci due razze, umane e Predator, ci sono anche gli xenomorfi, quindi, c'era veramente questo bisogno di farlo? E poi, secondo me, questi generi di giochi, sono i giochi sbagliati, che non dovrebbero esistere, perché? Allora, un conto è Dead by Daylight, che per quanto io considero un gioco di merda, e chi mi conosce lo sa, che mi segue l'odio, perché è un gioco completamente rovinato, rispetto all'idea di partenza, però Dead by Daylight, è un gioco nel gioco, cioè, siete nel mondo dell'entità, che gioca con voi. Quindi l'entità, vi deve uccidere, e voi dovete, accendere i cancelli, per scappare, e quindi già sapete di cosa, di che mondo fate parte. Nel film di Predator, Predator riusciva bene, perché loro, il gruppo di Svarsenegh, il gruppo di soldati, Marino, quello che erano, non lo sapevano di essere a contatto con una creatura aliena, e quindi era proprio su questo, che il Predator giocava ad astuzia e di anticipo, anticipandoli per ucciderli. Quindi non era difficile trovare uno messo di spalle, che si faceva una pisciatina, o che si fumava, si rollava una sigaretta, il Predator gli arriva alle spalle, e lo sgozza, ok? Perché non te l'aspetti che ci sia una creatura del genere. Quindi, il Predator era il cacciatore, che cacciava i soldati. Quel gruppo lì, insomma, capitanato da Svarsenegh, che si chiamava, non me lo ricordo, insomma, il nome qual era, del personaggio che va a interpretare, comunque, me lo devo rivedere tra l'altro a giorni, mi vado a morire, però, il cacciatore e le prede. In questo gioco è l'Aero Vescia, e ora vi faccio la semilitudine, con venerdì 13, qui i cacciatori siete voi Marine, e il Predator è la preda, ma l'avete visto in questo video, che vi è appena passato davanti, io, ora a parte che il giocatore che giocava al Predator, era senza le mani, eh, per l'amor di Dio, era senza le mani, però, l'ho rincorso, e l'ho saccagnato di botte, l'ho ammazzato, anzi, non è che quando l'ho visto arrivare, mi sono nascosto, appena l'ho visto, l'ho rincorso e l'ho ammazzato, e finisce sempre così, perché, sai, d'essere armato fino ai denti, sai che il Predator, se ti prende in corpo a corpo, ti ammazza, ma è difficile, tanto, eh, è normale, giochi di gruppo, lo rincorri, li tiri addosso, 300.000 caricatori, bombamane, e bazooka, cosa vuoi che faccia, cioè, non è che, un c'ha la Vurkan lui, per spararvi indietro, uno, due, ovviamente, il Predator, per me, è troppo debole, ma non si torna al discorso di venerdì 13, che Jason era OP, e quindi, doveva ammazzarti se ti prendeva, che anche lì, non è, era OP, però ragazzi, vi si è fatto vedere anche in una live, tutti armati con delle armi da corpo a corpo, e l'abbiamo circondato, Jason non si muoveva più, Jason ha dovuto aspettare, cioè, lo stavamo bullizzando, che tutti rompessimo le armi, prima di prenderci, l'esempio classico, è di avere due o tre cortellini nell'inventario, e ogni volta che Jason ti prende, te lo pugnali alla gola, cioè, Jason non fa più così tanta paura, soprattutto nell'errore, nello sbaglio, che fecero al tempo, che quando Jason si teletrasporta, comincia a vedere male, e capti che sta arrivando, e poi la musichetta, un gioco che dovesse rappresentare venerdì 13, dovrebbe essere Jason potentissimo, e non ci deve essere musichetta, non ci deve essere nulla, te lo devi trovare dietro, senza che te ne sei nemmeno accorto, banale dirlo, e secondo me anche un po' grottesco, oltre più che banale, gli unici che sono riusciti a fare un gioco asimmetrico horror, sono quelli di Last Year, Last Year è un giochetto del cavolo, però ci sono riusciti bene, perché il killer non fa musica, non fa niente, non ti fa interferenze nella visuale, ti sbuca da dietro l'angolo, e te manco te ne eri accorto, quindi è lì, davvero il gioco horror, che non te l'aspetti da un momento all'altro, questa arriva ti attacca, e ti prende nel momento che meno te l'aspetti, ora, questi giochi non dovrebbero esistere, perché? Proprio per questo motivo, perché nel film di Predator, voi immaginatevi se nel film di Predator, il gruppo di Marina, avesse saputo che c'era un Predator, stavano tutti spalla contro spalla, stavano tutti a guardare in alto verso gli alberi, anzi, ordinavano una pioggia di napalm, per bruciare tutta la foresta, e ammazzare sto Predator, immaginatevi se il film fosse stato, che loro erano i cacciatori, che andavano a caccia del Predator, sarebbe cambiato tutto, dopo 10 minuti di film, l'avrebbero ammazzato, o non sarebbero morti, da fessi come sono morti, perché sarebbero stati molto più attenti, uguale venerdì 13, siamo dei campeggiatori, dei camp counselor, scusate, degli amministratori del campeggio di Crystal Lake, ma te già lo sai che c'è Jason, quindi già corri per prendere l'accetta, corri per prendere il fucile, corri per prendere la tannica, e riempire la macchina per scappare, no, cioè, questi giochi vengono male, perché il killer, il Predator, o Jason, venerdì 13, dovrebbero giocare, sul, sull'iniziativa, dovrebbero giocare, sulla sorpresa, te non devi sapere che c'è un killer, per questo per me, questi giochi non devono esistere, perché te inizia la partita, state tutti schiena contro schiena, vi guardate, sempre in alto, l'avete visto come appare un Predator, e la caccia al Predator, corri e lo rincorri, cioè, e poi aspettate, la cosa brutta è che, te ammazzi il Predator, è vinta la partita, il Predator ammazza te, dopo tot soldi che c'hai, come nell'ultimo Call of Duty Warzone, che su Warzone funziona, di qua no, potete andare a un terminale, a chiamare rinforzi, e riportate in vita al vostro compagno, come? Il Predator si deve fare un bucio di culo così, per ammazzarvi, non c'ha mitra, non c'ha niente, giustamente c'ha il cannoncino, che oltretutto ti becca e non ti uccide, ci vogliono due o tre colpi, ma come? L'avete visto nella scena, quando spara quello con la Vulcan nel film, gli apre un bucio nello stomaco, che nemmeno la 44 Magnum, e qui ci vogliono due o tre colpi, e oltretutto lo possono anche riportare in vita, ribadisco ancora una volta, il gioco non è brutto, e io gli do anche un 6 su 10, altrimenti non l'avrei, la demo eh, la demo, non l'avrei portata assolutamente sul canale, ma ci sono divertito, e ci ho fatto una bella decina di partite, un'altra cosa che poi odio, di questo tipo di giochi, e la Ilphonic non lo vuoi capire, se io voglio giocare nei panni del killer, o comunque appunto di Predator, io devo poter fare il Predator, io in 10 partite l'ho fatto una volta, perché è casuale, te devi mettere una preferenza, e poi di là lui ti va a matchare con gente, ma non lo sai, magari fai il Marine, che poi uno potrebbe dire, eh però tutti vorrebbero fare Jason, eh però tutti vorrebbero fare il Predator, non è vero, perché anzi vi dico la verità, in questo gioco è più divertente fare il Marine, che almeno c'è un po' di PVE, vai a sparare altri soldati, devi fare la missione, invece il Predator deve solo ammazzarci tutti, quindi alla fin fine è più divertente fare il soldato, però se io voglio fare il Predator, te mi devi far fare il Predator, no che mi metti i bastoni tra le ruote, e forse lo farai, quindi dei vecchi errori che ha fatto l'Ilephonic, migliorando l'aspetto proprio ludico del gioco e del gameplay, secondo me del resto non hanno capito niente, non ne hanno fatto assolutamente tesoro, questi sono giochi che si fanno bene, in un gioco da tavolo, o in un gioco di ruolo, in un gioco di ruolo con ambientazione alien, tutti quelli al tavolo sanno che esista l'Xenomorphi, però te come Game Master gli ho dici all'inizio, ragazzi, nessuno dei vostri personaggi sa dell'esistenza degli alien, degli Xenomorphi, e nel caso trovaste un uovo, non potete, no, non mi ci avvicino, non ne so niente, perché te non sai manco cos'è quell'uovo, quindi magari il tuo personaggio ci si avvicinerà per farsi incubare, e lo puoi fare, la puoi gestire perché sei il Game Master, ma in un gioco del genere, dove la gente parte dall'inizio già sapendo che c'è un Predator, già secondo me è elevato il 90% del piacere, della sorpresa, ribadisco, immaginatevi, se il film di Predator fosse stato come questo videogioco qui, che loro già sapevano che c'era il Predator, cioè da una parte uno potrebbe dire, però sì, come fai a farcelo un videogioco? Avete mai giocato a Morbus? È una mod gratuita che mi invita a scaricare, a provare il DigiMod, in Morbus, spettacolare, quasi quasi me lo ristallo, siamo tutti su una stazione orbitale, o su una nave tipo alien, no? E qualcuno di noi è infetto, però te non sai che è infetto, fino a che non gli fai la prova del sangue come la cosa, o fino a che questo non ti attacca, o fino a che non gli spari e non si rivela, quindi non lo sai, e quindi ti non puoi, sì, sai che c'è l'alieno, lo sai, grazie al cavolo, però non sai chi è della gente che ti sta accanto, è una figata assurda, perché inizi a non fidarti di nessuno, cioè lì inizi veramente a, ma sono nel gruppo con la persona giusta, o con quella sbagliata? E in più, devi dividere il gruppo, perché in questo gioco c'è l'M60, il lancia granate, l'M4, la K, e il PSG1, ma il Predator, se voi state tutte e quattro insieme, come deve fa, te dovresti creare qualcosa per dividere il gruppo, e uno fa, e come fa a creare qualcosa per dividere il gruppo? Morbus ci riviene incontro, qualcuno ci avrà dei bisogni fisiologici, dovrà andarsi a fare una pisciatina, magari quello è stato smerdato dalla melmaliena, che lo sta corrompendo, quindi deve andarsi a fare una doccia per levarsela, oppure semplicemente uno è stanco, perché è da giorni e giorni che sveglio, deve farsi una dormita, e se si fa una dormita, qualcuno dovrà fare il turno di guardia, in quel modo lì, dividi il gruppo, o magari il gruppo va tutto insieme, però mettendoci l'alieno nascosto nel mezzo, te non sai se quello che è con me a fare la guardia è l'alieno, quindi magari aspetta soltanto che io mi addormenti per ammazzarmi, ed era una cosa spettacolare, cosa che ovviamente non si può riprodurre in un gioco con ammettazione di Predator, perché il Predator non è che assume le sembianze di qualcuno, però se io gli potessi dare un consiglio, allora invece di fare un gioco di Predator, che non serve a nulla, perché c'è all'incontro Predator che è più bello e più divertente, secondo me di queste costa 2 euro su Kinguin, o anche su Steam, secondo me loro avrebbero dovuto fare un gioco della cosa, non l'ha ancora fatto nessuno, un gioco della cosa dove la cosa è nascosta in mezzo a te, e quindi potrebbe essere quel soldato che per tutta la missione ti ha seguito, e ti ha salvato la vita, e alla fine te lo fischiare sedere, e te nemmeno te ne accorgi, cioè il problema di questo gioco, non c'è la cosa più bella del film di Predator, il fattore sorpresa, quindi dimenticatevi di fare il Predator, e di prendere le persone alle spalle, e ammazzarle mentre o meno se lo aspettano, perché l'avete visto, non esiste, poi oltretutto per il fatto che starei sempre con le spalle al muro, puntando alla porta, sapendo che il Predator è l'unico modo che ci ha per entrare, è quello, quindi, secondo me è il tipo di gioco sbagliato, che non dovrebbe esistere, volete fare un bel gioco di Predator? Fate un gioco di Predator PVE, single player, dove un gioco cooperativo, dove i giocatori fanno i Predator e basta, e devono fare varie missioni contro l'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale che ovviamente in questo gioco fa schifo, i nemici stanno fermi, vi sparano, non cercano nemmeno copertura, però ribadisco, è una demo, quindi proviamo la versione finale, 6 su 10, non li posso dare di più, 1 perché del team non mi fido più, e poi per quello che ho provato, non mi ha convinto per dargli di più, però se ve l'ho portato sul canale, vuol dire che ci ho visto dei miglioramenti rispetto a venerdì 13, e che non è un gioco completamente da buttare, vedremo quando uscirà, per ora, passata a sufficienza, però, secondo me, è il classico gioco filler nel mezzo, da dire, oh, quest'anno esce questo, fra due mesi esce quest'anno AAA, nel frattempo, nel mezzo, butto 35 euro e compro questo, ma è un gioco che verrà dimenticato, secondo me, molto velocemente, peccato, perché potevano usare un altro brand, e un'altra idea, e sicuramente avrebbero fatto un bel jackpot, fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate con un commento, e alla prossima.